Buongiorno, questa mattina abbiamo una riflessione, sempre sulla resurrezione, perché questo è il nostro tema, che riguarda le primissime espressioni di fede dei cristiani, espressioni di fede precedenti di scritti del Nuovo Testamento. Noi sappiamo che i primi cristiani cantavano molto, non erano come me, e non canto quasi mai, perché quando canto crepo i vetri. Noi abbiamo la testimonianza in una lettera di Plinio, che era stato mandato come messo dell'imperiale in Bitinia. Lui dice, descrivendo a Traiano chi erano questi cristiani, dice, erano soliti radunarsi in un giorno prestabilito, prima dell'alba, e inneggiare alternativamente, quindi cantavano in due cori, a Cristo come fosse un Dio. A noi interessa questo, anche il resto certamente a livello storico ci interessa, perché dice si erano impegnati con giuramento a non commettere alcun delitto, bensì ad evitare il furto, il brigantaggio, il brigantaggio, il brigantaggio. Roma capitale. L'adulterio, l'infedeltà e l'appropriazione di un bene affidato, l'appropriazione di un bene affidato. I cristiani oggi forse non tutti vengono rispecchiati da questa descrizione. Bene dunque inneggiare alternativamente a Cristo come fosse un Dio. questa è una testimonianza molto importante, perché se un pagano, verso l'inizio del secondo secolo, Plinio il giovane muore verso il 120, lui in Bitinia si trova già nel 110 circa, più meno. Scrive all'imperatore e descrive i cristiani come canterini, inneggiare alternativamente a Cristo come fosse un Dio. Questo ci dice che il cristianesimo aveva una lunga tradizione del canto di questi inni. Ora, nel Nuovo Testamento noi li ritroviamo questi inni. Sono testi che non appartengono all'autore o al cosiddetto autore del libro che li ospitano. Quando noi pensiamo al Vangelo di Luca, che forse è il più tenerone nei confronti di Gesù Bambino, noi vediamo che Maria Vergine prega il Magnifica, il nostro amico Zaccaria prega il Benedictus, il vecchio Simeone prega il Nung Dimittis, gli angeli pregano il Gloria a Dio nell'alto dei cieli e siamo tentati, forse perché siamo anche persone pulite, non siamo così depravati come i biblisti, pensiamo che Maria Vergine abbia pregato il Magnifica, Zaccaria abbia pregato il Benedictus, Simeone il Nung Dimittis e gli angeli gloria e gli angeli. Non è così. Se si fanno analisi storico-critiche emerge un quadro piuttosto interessante. Questi erano canti della comunità primitiva, probabilmente in questo caso, in caso di Luca della comunità ebraica di lingua greca, quindi ellenistico-cristiani, che ringraziavano Dio perché erano stati liberati dalla persecuzione. Luca prende questi testi, li ritocca ovviamente e li mette in bocca ai suoi protagonisti. Se noi puliamo i ritocchi, ricuperiamo il testo originale di questi inni, studiandoli li possiamo ricollocare nel loro sitzimleben, nel loro posto nella vita e possiamo renderci conto di come i cristiani non solo pregavano, ma soprattutto che cosa pensavano della propria fede. Se noi facciamo un lavoro simile nelle epistole paoline o comunque in tutto l'epistolario neotestamentario, quindi oltre le epistole paoline anche le cosiddette lettere cattoliche, noi ricaviamo un materiale molto abbondante e la cosa interessante è che questo materiale è antichissimo. Possiamo addirittura datare questi testi. Rifaccio un esempio. Noi abbiamo questo inno alla linea 16 che l'inno scritto oggi si trova scritto nella lettera ai filippesi e dice così. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli pur essendo nella condizione di Dio non ritenne un privilegio essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli sulla terra e sotto terra e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è Signore e a gloria di Dio Padre. Ci siamo? Lo conosciamo, parecchi di noi lo conoscono. Coloro che pregano la liturgia delle ore come noi preti, questo inno ce lo troviamo al venerdì. Certamente questo inno, letto così, è molto bello, dice un mucchio di cose importanti, ma per noi, che siamo un po' profani dall'esegesi, non troviamo nessuna data. Qui non c'è nessuna, non c'è Gerusalemme, che so io, 14 dicembre 2014, non c'è. Eppure qui ci sono molti indizi che ci aiutano a capire come noi ci troviamo di fronte a un testo databile. Vediamo un poco. questo. Questa parolina sembra una parolina innocente, guardate che non lo è. È una parola dialettale, non appartiene al greco classico, comune, o meglio, non appartiene al greco ellenistico, per essere più esatti, il greco ellenistico, diciamo così, condiviso nel bacino del Mediterraneo. Questa parola è dialettale, è un vocabolo che viene usato nell'isola di sindrome. E nelle zone di Mitrofea, nella costa, quindi Turchia mediterranea dell'est, Siria mediterranea del nord, quella è la zona. Ora lì i cristiani hanno cominciato ad esistere ben presto. Noi sappiamo che verso gli anni quaranta, sia ad Antiochia, che si trova di fronte all'isola, c'era una comunità cristiana. Questo testo è stato composto da loro, perché solo nella loro parlata greca c'era questo vocabolo. Nella parlata greca, che si parlava Gerusalemme, questo vocabolo non esisteva, non veniva mai usato. Mentre lì sì. E allora qui noi cominciamo a dire, ok, noi sappiamo che questo testo non è di Gerusalemme, non è di Damasco, non è di Samaria, non è di Galilea, ma è del nord. Questo testo è stato composto da ellennisti cristiani, cioè da ebrei di lingua greca, che appartenevano a queste comunità, dove esattamente non è possibile dirlo, ma senz'altro o ad Antiochia. L'epoca. Se voi notate, i nostri amici hanno adoperato un vocabolo, morfè-feu e morfè-dulu, condizione di Dio e condizione di servo. A noi, ovviamente, questo tipo di espressione non dice molto. Ma nel Medio Oriente questa dicitura è molto importante. Perché? Uno non è Dio perché appare come tale. Morfè vuol dire forma esterna. Quando noi chiamiamo un geometra a misurare un campo, ci dice che la morfologia del terreno, ipotesi, è accidentata. Morfè vuol dire forma. non è sostanza. Uno che è Dio è Dio per la sua sostanza, non perché ha una forma. Ed è uomo perché nella sua sostanza è uomo, non perché ha la forma. Per noi oggi un androide ha la forma umana, ma non è uomo. La domanda è, chi e quando adoperava questo modo di pensare? Questo modo di pensare lo adoperavano gli ebrei di lingua greca, i cristiani di lingua greca, prima di essere contaminati contaminati dalla filosofia aristotelica. Qual è il primo contatto tra filosofia aristotelica e cristianesimo primitivo ebraico di lingua greca? Voi dite, problema di lana caprima. No, non è nessun problema di lana caprima. Il problema è semplicissimo. Noi abbiamo nel cristianesimo nascente, addirittura è un collaboratore di Paolo, si chiama Apollo ed è un biblista alessandrino. Ad Alessandria d'Egitto l'aristotalismo era conosciuto molto bene. E quindi il primo contatto fra cristianesimo nascente di lingua ebraica, di lingua greca ma ebraico e il mondo di Aristotele, noi lo abbiamo, durante il secondo viaggio di Paolo, quando Paolo fonda Corinto. E quindi questo inno può essere degli anni 50, tra gli anni 50 e 55, cioè durante il secondo viaggio. Il nostro amico Apollo entra in contatto con l'ebreo cristianesimo di lingua greca. in quel caso non avrebbero adoperato Morfè. quel momento storico ci dice che è il termine ultimo nella linea della storia, quello è il termine ultimo per collocare questo inno. Questo inno è precedente l'incontro tra il nostro amico Apollo e la comunità ellennistico cristiana. dopo il 50 questo inno non sarebbe con questa fisionomia. Quindi questo inno è stato composto prima del 50. ci siamo? Proviamo a vedere l'altro inno, quello che abbiamo pregato. Anche a noi questo testo non dà nessuna data, ma per chi ha l'occhio clinico questa parola diventa magica. Etnesim leggenti Il cristianesimo inizialmente a chi veniva predicato? Agli ebrei. Quando Paolo arrivava su un posto la prima cosa che faceva andava nella sinagoga. C'è stato un episodio durante il primo viaggio di Paolo in cui gli ebrei respingono Paolo e Barnaba e loro si rivolgono ai pagani e i pagani rispondono. Vedete questa parolina? Vedete quest'altra? Laos Etnos Riuscite a identificarle? In ebraico esistono due nomi uno è Ham e l'altro Egoi Ham è sempre adoperato per indicare il popolo di Israele. Dio dice spesso il mio popolo Hammi Hammi è sempre Israele. Per dire un popolo pagano Israele dice Goim Goi singolare Goim plurale e la traduzione italiana è popolo popoli. Questa differenza che c'è nel mondo ebraico è chiaro che lo troviamo qua. Laos è il popolo di Israele ma anche la chiesa. Etnos sono i popoli pagani. Ok? Qui si parla della predicazione nei popoli pagani questo himno non può essere stato composto prima del primo viaggio di Paolo ma questo testo è stato composto subito dopo il primo viaggio di Paolo viaggio nel quale lui per la prima volta predica ai pagani e si pone il problema ma i pagani devono essere circoncisi e poi battezzati o possono essere direttamente battezzati e questo problema verrà risolto al concilio di Gerusalemme cioè nel 50 dunque questo inno è leggermente posteriore all'inno che abbiamo visto prima perché quello di prima noi non possiamo collocarlo a causa di questo tipo di vocabolario non possiamo collocarlo dopo la conversione di Apollo perché Apollo porta l'aristotelismo dentro alla comunità ebraico cristiana di lingua greca e quindi non si sarebbero espressi con questo vocabolo perché questo vocabolo indica chiaramente la mentalità ebraica non contaminata dall'aristotelismo perché l'ebreo dice ciò che vede e ciò che vede è sempre la forma il greco dice no la forma è semplicemente il primo approccio si va dalla sostanza e quindi questo è un indizio per il primo inno questo è il più antico questo invece leggermente più recente e posteriore naturalmente noi non dobbiamo mai dimenticare che i primi scritti del nuovo testamento sono testi scritti nel terzo viaggio di Paolo e quindi siamo dopo la metà degli anni 50 questi sono testi precedenti a Paolo non abbiamo in questi testi il condizionamento teologico del pensiero paulino questi testi sono liberi dal condizionamento del pensiero paulino sono liberi anche dal condizionamento del pensiero evangelico perché i Vangeli compaiono del 65 in avanti quindi nella linea della storia voi avete i primi scritti nel terzo viaggio tra il 55 e il 60 nel 65 avete il primo Vangelo che è Marco nell'85 avete Luca e Matteo nel 96 tra il 96 e il 100 avete Giovanni questi testi sono dunque tra il 40 non prima del 40 perché questo non è prima del 40 perché non c'era la comunità di Antiochia e la comunità di Creta l'ultimo testo è un testo un pochettino più elaborato queste parole trone dominazione principati potenza che non ci fanno nessun tipo di impressione sono però parole importanti per la datazione perché questi testi questi vocaboli sono legati a una concezione di tipo apocalittico ma l'apocalittica in questo caso è di tipo giudaico non un ostico Giovanni adopera un vocabolario non concetti ma vocaboli che appartengono al mondo gnostico e l'apocalisse è collocabile nell'ultima decade del secolo tra il 90 e il 100 per essere più esatti dovremmo essere verso il 96 durante la persecuzione di Domiziano questo tipo di vocabolo noi non lo troviamo più in Giovanni Apocalisse e quindi appartiene alla vecchia apocalittica giudaica naturalmente questa apocalittica giudaica quando scompare nel cristianesimo primitivo per lasciare posto all'apocalittica cristiana dopo la pubblicazione del capitolo 13 del Vangelo di Marco dove Gesù apre una nuova apocalittica nel capitolo nel capitolo 13 del Vangelo di Marco se voi andate a leggerlo trovate un discorso che fate fatica a capire perché è un discorso dove Gesù adopera i criteri apocalittici ma non con questo vocabolario questo vocabolario scomparso ora che cosa Gesù abbia detto a livello materiale quando ha fatto il discorso sulla fine di Gerusalemme sulla fine del mondo per noi è un po' difficile ricomporlo noi conosciamo le sue idee tramite questo discorso del capitolo 13 di Marco e dei testi paralleli ma sappiamo che non era più questa apocalisse come mai viene tramandato questo discorso di Gesù ripreso dai tre sinottici viene scritto da Marco per primo verso il 65 eppure in questo inno noi troviamo ancora questa dicitura che non appartiene chiamiamola così alla nuova apocalittica di Gesù la troviamo semplicemente perché questa è una tradizione dell'apocalittica ebraica quando l'apocalittica cristiana non era ancora stata elaborata il discorso il discorso di Gesù si tramandava ma non aveva ancora creato una scuola teologica questo ci sta a dire dunque che senz'altro il testo è precedente il Vangelo di Marco possiamo anche andare un pochettino più in là nel mondo greco questo concetto primo genito non è importante ma nel mondo ebraico questo concetto è importantissimo se voi notate questa parolina che vi sto sottolineando si trova immediatamente dopo in tutti i due i casi a una costruzione particolare pronome relativo il quale stranamente tradotto con un personale in italiano os vuol dire il quale questo vuol dire il quale questo vuol dire il quale non è il quale è icona del Dio invisibile il quale è principio ma anche archè può essere modello e quindi qui bisognerebbe aggiungere l'altra parola perché la parola principio non esaurisce tutto il valore di archè infatti questo concetto è legato esattamente a questa dicitura primogenita come questo concetto è legato a questa dicitura primogenita questo concetto è legato a questa dicitura primogenita di tutta la creazione e questo concetto è legato a questa dicitura primogenita dai morti lui non è solo il principio ma è il modello della nostra risurrezione primogenito dai morti in italiano hanno messo il verbo che in greco se avete notato non c'è dov'è il verbo qui non c'è primogenito da i morti in italiano hanno esplicitato primogenito di quelli che risorgono dai morti in greco è così primogenito dai morti questo l'hanno aggiunto questi concetti sono espressi in greco ma sono totalmente ebrei non sono greci anche questo testo risente della comunità ebraico cristiana di lingua greca prima dell'incontro con i pagano cristiani